maglia verde 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 e nera ma che è la moto davanti ne? o qualche passo o è il galucchio se non è il... ma c'è anche tra porte... si, si... anche un bel vantaggio su se con... porca... se l'è in gara a me sembra Diego Fenaroli quello dietro? è Diego con la maglia azzurra, blu... e Bertelli dovremmo fare a me sembra Diego, Diego Fenaroli e quello no Bertelli che mi ha la maglia rossa ma non mi sono mai a me nella pedalata del Diego ma madonna che distacco che hanno un po' di te perché il verde è mio perciò che arriva è mio me lo dica signora quando c'è qualche altro dietro eh? qui adesso due arrivano due giù qui tutte in rossa ecco questo qui sarebbe terzo e quarto si dopo bisogna vedere se bici da corsa o... ma queste saranno tutte da corsa queste sono da corsa un po' di te ma sei ha detto ma sei ha detto c'era uno che pedalava una roba incredibile l'ha fatto il tornado l'ha detto l'ha detto il record non mi ricordo ma è 37... 38 mi sembra 37 o 38 mi sembra cosa era venuto su? mi sembra che le devo fare 34 no 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 adesso ah si si no no io guarda i cronometri ah si io la fanno usci il 38 bici a corsa no nessuno ma per me è più 40 non so quale era che è però stanno arrivando i primi sono là al curvo dopo l'ha fatta l'ale ecco attendiamo il passaggio dei primi attriti siamo sul barrimone dopo i due primi ciao davide ciao grazie bravi bravi è Diego è Diego Fenaroli è Diego il secondo lo mi ha visto bravo dai dai bravo 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 che bello che bello questo è è è 140 è 40 è 40 è